E' giovedì 31 ottobre, ben trovati con il Tg distretto di quest'oggi. Secondo Union Camera Emilia-Romagna è positivo l'andamento del PIL regionale. Una crescita del prodotto interno lordo dello 0,9% prevista per quest'anno e per il prossimo. I consumi delle famiglie sono attesi a più 0,6 nel 2024, più 0,9 nel 2025. Per gli investimenti, quelli fissi lordi saranno più 2,9% quest'anno, ma saranno a meno 1,6% nel 2025. Tra i diversi settori, quest'anno le costruzioni faranno un progresso del 7,6% e traineranno l'aumento del valore aggiunto reale regionale, che sarà sostenuto anche dai servizi a più 1,2%. Per quanto riguarda invece l'industria, moderata la ripresa, più 0,9% nel 2025. Ricevendo al Quirinale i nuovi cavalieri del lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il ritorno dell'Italia alla crescita economica e il ruolo che in essa hanno proprio le aziende. Sentiamo. La posizione netta sull'estero a giugno di quest'anno era creditoria per circa 225 miliardi di euro. Una dimensione enorme, il 10,5% del PIL. Irragionevole che non venga notato dalle agenzie di rating nel valutare prospettive e affidabilità dell'economia italiana. Questa è la nostra posizione patrimoniale, un segno di forza, ha definito il Governatore della Banca d'Italia nella sua ultima relazione. E il merito è delle imprese, dei capitani di impresa e dei loro collaboratori, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che in esse operano. E ieri al Quirinale c'era anche un po' di Sassuolo perché Caterina Caselli ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere del Lavoro. Nata a Sassuolo, come sapete benissimo, Caterina Caselli è amministratrice e delegata di Sugar Music, un'etichetta discografica e casa editrice musicale da lei fondata nel 1989. Oggi Sugar è proprietaria di un repertorio di 80 mila opere musicali, gestisce un catalogo di 2000 colonne sonore, occupa circa 40 dipendenti. A lei dobbiamo ad esempio la scoperta di un talento come quello di Bocelli e quello ad esempio anche di Malicaiane. Il dispetto di oggi ci porta a Fiorano, vediamo. Ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, il video anonimo che riprende alcuni ragazzini a canirsi contro i gersi di una rotatoria a Spezzano. Erano le due della notte tra sabato e domenica, ma qui mica si danno giudizi su quanto successo ci mancherebbe. Si registra però la caduta, tingendo il video alla pagina 6 di Fiorano se, tra le centinaia di commenti, alcuni in profondi e pensosi, altri decisamente più beceri, seguiti alla pubblicazione del video ce n'è uno tuttavia che ci strappa un sorriso e recita rivolta ai giovani vandali. Invece che andare a fi, spaccano le rotonde. Veniamo alla rubrica Eccetail.com, dedicata alla novità di prodotto che potete ovviamente vedere sul sito www.eccetail.com. Oggi la protagonista è ABK con NET, un progetto realizzato con Paola Navone. Oggi lavoriamo a quattro mani con lei. Questo progetto che noi presentiamo, denominato NET, come rete, come segno distintivo di questo incrocio di situazioni, di percorsi, di fili, è qualcosa che sposta completamente il focus sull'aspetto e sulla volontà creativa che abbiamo con il marchio ABK. E con Paola, nello specifico, abbiamo ragionato sull'idea di usare questo aspetto visivo morbido di questo tessuto che si mescola con il cemento, con l'intonaco, comunque con la matericità. E per la prima volta abbiamo fatto non solo la decorazione, ma un progetto che parte proprio dalla realizzazione del fondo, dei toni e di tutto quello che comporta questo progetto completo. Per lo sport ci occupiamo di calcio. Sere B in campo nel fine settimana dopo il turno infrasettimanale. Al momento Sassuolo secondo a 22 punti, due meno della capolista Pisa. Reggiana quindicesima con 12 punti, Modena diciassettesimo con 11. Sabato alle 15 la Reggiana sarà in trasferta a Bari, il Modena sarà anch'esso in trasferta alla Spezia, sempre alla stessa ora. Infine domenica alle 17.15 il Sassuolo in casa ospita il Mantova. Chiudiamo come sempre con la montata del debito pubblico italiano, superi 2.979 miliardi di euro. Mi raccomando non perdete questa sera alle 22.30 su TRC la puntata di Ceramicanda. Vi porteremo a scoprire due nuove showroom e due nuove segni di aziende. Stiamo parlando di Cheop e di Energy Care. Ci occuperemo del mercato russo. Vi faremo vedere l'emozione di Giovanni Savorani nel ricevere il diciannovesimo premio Villa. E poi per quanto riguarda la tecnologia ci occuperemo di progetta e di system. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS